Prova a darci un segno della tua presenza, magari ce l'hai già dato, noi non l'abbiamo ancora sentito o forse non siamo sicuri che sei tu, conto fino a tre, facciamo un gioco, io conto fino a tre e tu, se puoi, per favore, fai un rumore, uno, due, tre, grazie per la visione